Gida ha davanti a sé un ostacolo da superare per ottenere il via libera della regione al progetto di un nuovo termovalorizzatore con adeguamento impiantistico per le linee acqua e fanghi. Il parere dell'ASL al momento è tutt'altro che positivo. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale che è in corso, il Dipartimento della Prevenzione di Via Lavarone ci va giù pesante e definisce la documentazione fornita da Gida non adeguata per contenuti e forma alla complessità delle vicende ambientali e sanitarie che si sono succedute nel corso degli anni in questa zona, dove la sensibilità della popolazione e dei suoi rappresentanti richiederebbe la predisposizione di informazioni e spiegazioni chiare e basate sui migliori dati disponibili. Una vera e propria tirata d'orecchia alla zena di depurazione delle acque partecipata dal Comune e dagli industriali, spesso contestata dai residenti sia per il cattivo odore che per il rischio tumori. Accuse pesanti che avrebbero dovuto indurre i vertici di Gida ad approfondire meglio l'aspetto sanitario per essere inattaccabili, cosa che secondo l'ASL non è stata fatta. Nel proprio contributo istruttorio l'ASL critica l'inserimento di grafici e immagini scaricate dal sito ARS senza alcun commento sul significato rispetto al profilo di salute dei residenti nell'area pratese, peraltro con alcuni errori formali nelle leggende delle figure. Le mancanze sottolineate da ASL non sono finite qui. I dati sanitari sono limitati alla mortalità e solo relativamente ad alcune cause. mistero sul perché di questa scelta, nessuna informazione sull'incidenza o prevalenza dei tumori disponibili su richiesta al registro regionale dei tumori di Ispro per gli anni fino al 2014 e riferimenti alle indagini epidemiologiche di Ispo e dell'ASL condotte tra il 2005 e il 2015 a bacio a cavallo, alcune delle quali commissionate dalla stessa Gida. L'ASL chiede quindi di riformulare tutta la documentazione con il consiglio di farsi seguire da un professionista competente in materia. Gida fa sapere che tali contributi esigenti sono una prassi e che è in attesa di essere convocata dalla Regione per un confronto aperto sul progetto anche alla luce di queste eccezioni a cui potrebbero seguire eventuali richieste di integrazione, cosa che potrebbe essere fatta anche contestualmente alla conferenza dei servizi.